Cari lettori e lettrici, siete curiosi di sapere quali sono i film in tv nella prima serata di martedì 12 dicembre, che prendono vita dalle pagine dei libri. La vostra rubrica giornaliera è pronta a presentarli. Dal romanzo Che pasticcio Bridget Jones di Howen Fielding, il film commedia Che pasticcio Bridget Jones, inonda sul canale 27 alle ore 21. Faccio presente che il palinsesto potrebbe subire delle variazioni. Ora vediamo i dettagli. La trama del film Che pasticcio Bridget Jones. Bridget Jones e Mark Dorsey sono felici e innamorati. Tutto procede per il meglio fin che nello studio di Mark si presenta una nuova tirocinante. Una donna bella e intelligente che mette in crisi le certezze di Bridget. Ma anche Daniel Clever, l'ex capo di Bridget, si rifa vivo. Grazie per l'ascolto. Se sei un appassionato di adattamenti cinematografici tratti da libri, non puoi assolutamente perdere questa rubrica giornaliera. Ogni giorno troverai i film trasmessi in prima serata che prendono vita dalle pagine delle opere letterarie, offrendoti un'esperienza unica e coinvolgente. Ti invito gentilmente ad iscriverti al canale per non perdere nessuna novità e offrirti sempre nuovi spunti e consigli interessanti sul fantastico mondo dei libri. Grazie, un caro saluto.